Conoscete la regola dei 5 minuti? Si tratta di una tecnica di time management sfruttata e utilizzata da moltissimi imprenditori come Elon Musk e Bill Gates che permette di essere altamente produttivi. La tecnica consiste nel dividere la giornata in blocchi di 5 minuti all'interno dei quali bisogna svolgere un'attività. La regola più importante è quella di dedicarsi esclusivamente ad un solo task quindi evitare il multitasking. In ogni caso a livello teorico non ci saranno mai perdite di tempo. I principali vantaggi sono quelli di farci riempire gli spazi vuoti durante la giornata con attività altamente produttive. Così da evitare di perdere tempo in attività che potrebbero essere completate in molto meno tempo. E tu avevi mai sentito parlare di questa tecnica?